Ieri è stata una giornata importante per il territorio di Naso che si è appropriato di un palazzo municipale più funzionale, rinvigorendo uno dei palazzi antichi del paese. Al taglio del nastro, dopo la breve cerimonia al Teatro Vittorio Alfieri, dove ha giganteggiato in avanti la fanfara dei Carabinieri, il prefetto di Messina Cosima Distani, il questore di Messina Gabriella Ioppolo, il generale di Corpo d'Armata Libero Losardo, che è anche il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, il Vescovo di Patti Monsignor Guglielmo Giombanco, tanti sindaci del territorio, esponenti politici e cittadini che non hanno voluto mancare a questo evento. Una giornata importantissima, molto sentita da tutti noi nasitani, che l'aspettavamo da tempo, perché da quando abbiamo demolito purtroppo per la famosa frana del centro storico il vecchio municipio, sentivamo l'esigenza di trovare di nuovo una casa per tutti i nasitani, una casa che sia il simbolo dell'istituzione dello Stato, della presenza dello Stato anche nel nostro territorio. Finalmente abbiamo un municipio degno del suo nome, degno della città di Naso, con ampi locali, bellissimi, dove tutti i dipendenti comunali, i tecnici che ci lavorano possono lavorare nel migliore dei modi ed avere anche una sede rappresentativa di quello che è il municipio e quella è la funzione dello Stato all'interno di un territorio. Come si è raggiunto questo obiettivo, questo risultato, con quali finanziamenti? Guarda, la storia è lunga, lunghissima. Il primo finanziamento era arrivato nel 2004, dopo per diverse vicissitudini è stato perso. Lo abbiamo recuperato nel 2012-13 con due finanziamenti regionali da un milione di euro ciascuno e un altro investimento da 400 mila euro, circa con un mutuo che i cittadini nasitani stanno pagando. Ancora meriterebbe ulteriori lavori per migliorare ancora di più la bellezza e l'istituzionalizzazione dell'edificio. Stiamo cercando di ottenere il maggior risultato. Oggi penso che sia stata una giornata importantissima dove la presenza delle istituzioni, di tutte le istituzioni, regione, provincia, il prefetto, il questore, il vesco, siamo stati tutti presenti a immortalare una giornata che resterà ormai nella storia della nostra città.